Siamo all'Orto di Brera. In questa zona molto caratteristica di Milano, troviamo l'unione di un servizio alla clientela che è un fruttivendolo tradizionale però trasformato, quindi un rapporto molto esclusivo di bottega unito alla ristorazione, quindi si possono registrare dei piatti che sono molto particolari studiati apposta insieme a uno chef specializzato sull'uso della verdura. Tutto quanto ha un'immagine molto uniforme e molto diversa rispetto ad un fruttivendolo tradizionale. Quello che è rimasto molto simile è il rapporto con il cliente, il servizio diretto con il cliente, il rapporto uno a uno in cui viene suggerito e consigliato al cliente che cosa acquistare piuttosto che cosa mangiare o come accompagnare la selezione di vini che è all'interno di questo punto vendita. C'è una particolare cura e attenzione all'esposizione, qui tutte le cassette di frutta sono state selezionate nello stesso modo, hanno il brand inciso, quindi c'è un'uniformità di immagine molto forte che di solito all'interno di un fruttivendolo non si trova perché le cassette arrivano da vari fornitori e la stessa cosa per quello che si vede poi alle mie spalle che è tutto servito in cesti di vini intrecciate. Questo dà un senso di naturalezza e di uniformità molto forte che di solito non si trova in un ambiente del genere. Grazie per la visione!